Santis, lo chef dell'hotel Brunelleschi, vi aspetto sabato 3 in piazza Santissima Annunziata per la festa del cioccolato. Buongiorno a tutti, sono Rocco De Santis, lo chef dell'hotel Brunelleschi di Firenze, vi aspetto sabato 3 in piazza Santissima Annunziata per la fiera del cioccolato artigianale. Ci sarò io e ci saranno anche loro. Ciao!